ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi abbiamo la pizza da mangiore sono molto affamata comincio a tagliarla sono le due di pomeriggio tu passa io una panna da me mi sono messi i microfoni il più vicino possibile con la sensibilità più alta in modo che si sentano molto i suoni di masticazione infatti in questo video sentirete suoni di masticazione di me che mangio se non vi piacciono, se vi disgustano, se qualunque cosa chiudete questo video immediatamente qui inoltre parlerò anche di serie tv perchè è un format che mi piace molto se non mi piace molto se non mi piace molto che l'amo? in questo video parlerò anche di serie di un mi piace fare video eating ho parlati in cui si fanno un po' di chiacchiere perché trovo che ce ne siano talmente tante di video di eating i miei non sarebbero nulla di che da più questi video come una pausa pranzo insieme ma anche se fatica queste cose non sono piaciute un po' di più e ma finta il piaccio che è un po' di più acqua naturale ho della pesca non bevo altro e so anche ragazzi questa non è la vera pizza napoletana eccetera eccetera sì l'ho assaggiata sì è diversa sì non ho tempo di andare a Napoli per fare un video di eating quindi mi sono segnata tutte le serie tv che ho guardato in questo periodo e con questo periodo in interno tipo da aprile perché c'è anche trono di spade e ve ne voglio parlare un pochino più che altro consigliartene di afficoltare i pensi eccetera è un pochino di è un pochino di è un pochino di non avrà un aspetto glorioso, ma è buono allora, prima serie tv non so il canzoletto è Jane the Virgin the Virgin non fate che male quindi Jane the Virgin è una serie che ho iniziato a vedere su Netflix e a 5 stagioni penso che su Netflix ci siano solo 3 o 4 al massimo è finita quest'anno è una serie tv che fa ridere un po' piangere e prende un sacco fantastico scusate che sto mandando con la finezza delle nocce ronde ma sono un po' scomoda e parla se qualcuno l'ho già vista parla di questa ragazza che è rapida e suonano la ossessionava con la verginità e tutto e intanto questo ce n'è nella prima o seconda puntata rimane incinta attraverso un'inseminazione artificiale ed è ancora vergine ed è molto carina divertente però appunto non annoia perché a me le serie tv sono solo divertenti dopo un po' annoiano a parte big man di voi però è veramente carinissima affronta anche delle tematiche molto più insomma altre tematiche abbastanza serie in modo sempre molto dolce la protagonista è dolcissima quindi super consigliato ogni cosa è qualcosa da di leggero da guardare ecco un'altra serie tv che ho finito ed è finita è big man theory che e mi è dispiaciuto molto che sia finita perchè è una serie tv che non ha perso nonostante le tantissime stagioni puntate la sua ironia è stupendo è solo migliorato in realtà io lo seguivo da una vita tipo dalle superiori o secondo o terza e quindi siano molto affezionata a questa serie non potete non potete non averla vista andiamo e se l'avete lasciata un po' lì recuperatela perchè è molto carina passiamo passiamo a una serie tv molto più pesante che è cernobil non c'è bisogno di dire l'altra oma di lei e ho fatto da dio ho fatto veramente stupendo pespiso cioè io stavo male dopo ogni puntata però è davvero 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 la pena vederlo e con calma magari siete persone un po' sensibili anche non da soli e non sono uscita mai contare una puntata solo ho sempre aspettato il mio fidanzato perchè è molto pesante certe se ne faccio veramente fatica a vederle perchè è molto pesante perchè mi si è successo davvero e però veramente fatta stupendamente un'altra serie che è finita è Orang is the new black anche questa la seguivo da anni e ero proprio affezionata ai personaggi non vedevo l'ora che uscisse è stata abbastanza diversa l'ultima stagione dalle altre persone ci sono cambiati e per chi non sapesse cos'è Orang is the new black è una serie di netflix che parla di chi ha come protagonista piper che è una ragazza figchettina che se possiamo dire che va in carcere per una cosa che ha fatto anni 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 prima e diciamo che poi la sua permanenza in carcere si prolunga e poi va a incontrare tutte le persone che effettivamente sono in carcere e tra l'altro com'è proprio tema mia pagina tantissimo sia il carcere in generale perché i carceri americani che sono un mondo sestante ed è molto molto interessante a tratti pesanti a tratti leggero mi è piaciuto più della scorsa stagione l'ultima stagione è veramente molto carina e bella è una serie tv che vi consiglio tantissimo ma ci sono stupendi poi curioso ogni volta che scopri che scopri perché è un personaggio in prigione eccetera è un botto interessante ve la consiglio tantissimissimissimo poi non vale che ci riesca neanche ho finito il trono di spade guarda il trono di spade io sono bella di dire che lo guardavo tipo dalla terza stagione ho guardato la terza stagione in diretta solo le prime giorni guardate una dietro l'altra invece molte persone le guardavano hanno guardato dalla quinta dalla sesta io no l'ho scoperta prima e vabbè ci sono parecchie recensioni comunque su come fare comunque appena guardarla in generale è entrata nella storia ok passiamo a una serie tv che mi è un po' andata giù che è Vittoria Vittoria è la storia della regina Vittoria Inghilterra Trisavora Tris Trisavora Bis Bisavora non lo so dell'attuale legge in Inghilterra Isabetta Seconda e le prime stagioni sono stupende mi sono piaciute molto soprattutto la prima è comunque fatto molto bene è molto interessante e tra l'altro i due protagonisti c'è Vittoria e il principe Alberto stanno davvero insieme cioè gli attori stanno davvero insieme nella vita reale cosa che è molto carina secondo me dà molto nei telefilm e anche un buon insegnamento di storia devo dire la verità ripassi un bel po' di cose molto carino in realtà stagione forse l'ho vista con un po' meno di attenzione ma mi ha annoiato leggermente continuo comunque a seguirla non so se uscirà in realtà stagione l'ultima perché mi sono affezionata ormai non voglio sapere come va a finire perché è storia però comunque mi sono affezionata dei personaggi eccetera difficilmente io lascio le serie tipo lì deve essere proprio lunghe e pesante tipo Gossip Girl non ce la ce l'ho più e quindi sì se vi piacciono sei tipo di principessa regine tipo non so Versailles le levate un sacco e un sacco così le crown invece non mi è piaciuta l'ho già tenuta dopo la prima puntata comunque vittorno di queste e ve la consiglio e un'altra serie di V che all'inizio mi piaceva ma che poi mi ha stufato è Revenge è una serie vecchiotta tipo il 2014 è finita da un po' e me lo avevo considerato a Netflix quindi proviamo all'inizio mi piaceva molto poi forse un po' alzerato devo guardarla molto più lentamente magari con molte più pause però dopo un po' veramente ho detto vabbè mi leggo la trama e guardo solo le ultime puntate ed è ciò che ho fatto un po' pesante la prima stagione è molto carina ecco se proprio guardate la prima stagione se vi è volete guardare qualcosa di nuovo passiamo a una serie di V che mi avete consigliato voi e che mi è piaciuta tanto 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 e di cui non mezzo l'ora esca la terza e ultima stagione e si tratta di dark 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 tagliamo sta pizza ma questa pizza è freddissima è buono stesso è buono stesso vuoi piacere la pizza fredda? dark parla praticamente di posso dire sì piace nel tempo è super misteriosa comincia in questa cittadina chiamata Winden sfigatissima della Germania quindi io scapperei le gambe levate però e appunto succedono dei rapimenti e robe strane e poi si scopreva un piano che fine hanno fatto queste persone e c'entrano va non vi voglio spoderare ah però sì è è è intrigante bisogna starci molto attenti ma è super 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 consigliata è piaciuta sia me che il mio ragazzo quindi è molto bello ehm guardarla anche insieme fare farsi nuove idee nuove teorie eccetera serie tv che ha appena 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 avuto di vedere tipo ieri la seconda stagione di Elita mi piace un po' tutto il suono di quando si attende al primo morso mi è piaciuto un po' mi è piaciuto un po' mi è piaciuto più della prima la seconda stagione la seconda stagione l'ho detto la seconda stagione di Elita che poi ho fatto dei tagli e invece da veramente tanto mi ha preso penso più una serie tv questo sia più una serie tv per donne poi non ho visto così però in generale piace più alle donne che i nomini invece Dark piace entrambi e bello super promosso ma questa di Netflix la trovate su Netflix Netflix sponsorizzami ti prego a parte sotto e parla Elite parla di dei ricconi che frequentano un collegio spagnolo e che nella prima stagione praticamente vavo con una scuola con una scuola non so e quindi si va a fare delle borse di studio da ragazzi mi sembra che invece non sono ricchi quindi poi c'è anche lo scontro insomma fra ragazzi ricchi e ragazzi non ricchi più che lo scontro è il rapportarsi insomma ma fanno un po' altre riequilibri questa però è la prima stagione nella prima stagione si scopre appunto che c'è stato un omicidio nella prima si scopre che è stato invece all'inizio della seconda vanno a vedere che c'è stato un rapimento ed entrambe praticamente vanno un po' come a casa di carta sarà tipico dell'essere spagnolo non lo so vanno a vedere tipo 84 ore dopo e poi stanno 84 ore prima di questo avvenimento a volte anche Dark lo fa tipo non so vedi la scena del rapimento vedi che cercano tutto quanto e poi va indietro tre giorni prima e vedi cosa è successo pian piano arriva a quel punto e ho segliata bella 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 è c'è lo ho consigliato i 30 morsi per ogni boccone non fratti i 4 in questo video molto male l'ultima serie tv che vi consiglio è Lucifer che ho visto un po' di tempo fa mi è piaciuta un botto e parla di un punto lucifero che va sulla terra va a Las Vegas ai nostri tempi e decide di solito ci stava per un po' che mi decide proprio di starci definitivamente diciamo che comunque è una persona particolare quindi l'attore bravissimo è un botto divertente che è un personaggio un po' più divertente quella serie tv in generale è proprio divertente non è pesante assolutamente però non è neanche noiosa ok io ho finito di mangiare spero che questo video un pochino più tranquillo ecco veramente semplice vi sia piaciuta e penso sia giunta l'ora di abbassare buonanotte 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 spero non abbia troppa fame ora buonanotte 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 pasticcini un bacione che rispira